...utilizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti nei articoli giuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 1550 di conversione in legge del decreto legge 14 dicembre 2018 numero 135 recante disposizione urgente in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione nel testo delle commissioni identico a quello approvato del Senato. Grazie a lei